Velocemente? Allora io come lavoro faccio il pittore Ah, quindi Dupingo quadri Tu non fai come lavoro il cantante? No, no Quindi il pittore Senti, velocemente, dai Così, anche se l'amico Maurizio si arrabbierà Dici qual è il tuo studio, come si chiama, dai Si chiama Studio Arte nel Tempo Benissimo, se sta a fare pura pubblicità, fatelo pagare Ma nel frattempo noi lo ascoltiamo Lo ascoltiamo per intero con un pezzo Cosa hai scelto? Cosa hai scelto? Quale brano? Una canzone di Neck, Lascia che io sia Ah, un brano di Neck, Lascia che io sia Ma c'è qualche problema delle corde vocali? Ti sento un po'... Ti sei emozionato? No No? Stai a strozzare la voce Che c'è? Lo so Hai magnato, scommetto, eh? Tanto Va bene Allora, sentiamo adesso subito, immediatamente Leonardo Porcella con Lascia che io sia di Neck Io non ti chiedo niente Il tuo saluto è indifferente E basta Ma tu non puoi più farmi Male da starci male Non vali più di questa luna Spenta Ricorda che Dicevi a me Lascia che io sia Il tuo brivido più grande Non andare via Accorciamo le distanze Nelle lunghe attese tra di noi Io non ho confuso mai Braccia sconosciute con le tue E parli e scherzi e ridi Ti siedi e poi mi escludi Mi sento addosso Sorrisi che conosco Sorrisi sulla pelle Quando eravamo terre e stelle Adesso Se tu mi vuoi E se lo vuoi Lascia che io sia Il tuo brivido più grande Non andare via Accorciamo le distanze Nelle lunghe attese tra di noi Io non ho confuso mai I tuoi pensieri Mi sfiorano Di che l'incontro è più niente importante E se lo vuoi Lascia che io sia Il tuo brivido più grande E non andare via E non andare via Non sei più così distante Quello che c'è stato tra di noi Io non l'ho confuso mai I tuoi pensieri Mi sfiorano Ed il passato Si arrende al presente Ti vedi? Ti vedi? Dimmi sì o no? Sì o no? Ti vedi? Non ti vedi? Là c'è un monitor Guarda Lo so che da casa Non riescono a vedere Perché Eh sì Dice a questa fama Sentite quanto è timida Questa ragazza Che viene da Qual è la tua provenienza? Bitonto Uì Bitonto 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 O Bitonto Com'è la pronuncia? Visto che tu hai fatto Corso di edizione Bitonto Bitonto Sentite Oh finalmente Dai vai Metticela tutta Abbiamo anche i nostri cameraman Che sono di Bitonto Cosa si festeggia Bitonto? Dici tutto Dai Salutiamo tutti gli amici Intanto di Bitonto Che ci ascoltano Ciao Vi voglio bene Vi voglio bene C'è la processione Che c'è scusami In questo periodo C'è la processione No? Non c'è Ma non c'è nessuna Cosa C'è C'è Mi dicono che c'è Che in questi giorni Vabbè Testa adormi C'è la festa della mamma Che è passata per noi Va bene Perché questo è un programma Che va dopo naturalmente Allora intanto abbiamo Angela Desario Desario Davidonto Davidonto quanti anni hai? Sedici Sedici anni Sedici anni Devo dire che Non posso Non posso dire Se sei brava o non brava Io non posso esprimere giudizi Però abbiamo un volto Veramente genuino Carino Alla radio Voi tramite la radio Non potete vederla Però potete fare attraverso I nostri siti web Olimpiawebtv.it Stelladelsur.tv E naturalmente anche il nostro canale Di Sky 869 Di Play TV Italia Quindi Cerai la parabola a casa? O il digitale terrestre Peccato Peccato Va bene Allora qui sta la parabola Va bene Il decoder Ok Tu ci presenterai che brano? Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina Bene Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina Un brano che dedichi a chi? Mi è fidanzata Ah sei fidanzata? Sì A questa età? Ah bene Come si chiama se posso? Fabio 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 Lui vuole che tu canti? Sì Canta anche lui Canta anche lui? Sì Cantate insieme? Cosa fate? C'è un duetto? Sì abbiamo cantato In amore di Gianni Morandi e Barbara Cola Ah che bello Però come mai ti sei divisa? Adesso sono un po' Accendo la miccia Capito? Com'è ti sei divisa? Ecco perché Stiamo preparando uno spettacolo a scuola Ah ah E quindi era impegnata con le prove Ah no E io sono dovuta andare via Sei andata via Ho capito No perché ti sei divisa Sei arrivata a Stella di Sud da sola E non è venuto lui? Ah perché avevo uno stage con Rubini Ah ah No Ho capito Va bene Lo stage con questo signore Va bene Nel frattempo tu sei qui da sola per Sì Capisci ma è al volo Se lei fa il disco Se fa il disco va bene Non devo adesso magnarmi il microfono Allora adesso ti ascoltiamo Se gli amici da casa vogliono votarti Lo devono fare attraverso naturalmente il nostro sito Intanto vi ricordo sempre il nostro percapito telefonico Per chiamarci e partecipare alla nostra trasmissione Che è il Vai Qual è il telefono? Non lo so 33 Dillo anche a te 33 33 33 Ok stiamo in un studio medico Di 33 22 11 78 E adesso ci cucchiamo La nostra Angela Desario Mi si è scoppiata dentro il mio cuore Era Solamente ieri sera Io parlavo con gli amici Oggi scherzavamo fra di noi E tu E tu E tu Tu sei arrivato Mi hai guardato E allora Tutto è cambiato per me Mi sei stoffiato Dentro al cuore All'improvviso All'improvviso Non so perché Non lo so perché All'improvviso Sarà perché Mi hai guardato Come nessuno mi ha guardato mai Mi sento viva All'improvviso Per te Ora Io non ho capito ancora Non so come può finire Quello che succederà Ma tu Ma tu Ma tu Ma tu Ma tu Tu l'hai capito L'hai capito Ho visto Eri cambiato Anche tu Mi sei scoppiato Dentro al cuore All'improvviso 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 Non so perché Non lo so perché All'improvviso Sarà perché Mi hai guardato Come nessuno Mi hai guardato mai Mi sento viva All'improvviso Per te Mi sei scoppiato Dentro al cuore All'improvviso All'improvviso